Natale è giunto, ormai è un abitué dell'Azzurro Food, diciamo che ormai ho un connubio perfetto. Natale è giunto, Azzurro Food è quest'anno questa grande novità, questa bellissima terrazza sul mare. Questo ristorante che tra le altre cose ha una particolarità, quello di avere i tavoli che invitano alla condivisione, non il tavolo appartato in due da andare in coppia, ma per poter conoscere anche altre persone. Guarda, intanto vi ringrazio Sciacca perché è il terzo anno che facciamo la manifestazione. Il terzo anno per noi di Azzurro Food quest'anno ho voluto dare un valore aggiunto, ho chiesto agli organizzatori di mettere un'area al ristorante perché l'area era troppo concentrata sulla manifestazione di street food, quindi mangio veloce. Invece abbiamo voluto mettere questa area con questi tavoli conviviali, con questa vista meravigliosa, con quest'area che è un po' più protetta rispetto al resto dell'Azzurro Food dove sta andando molto bene e ogni sera abbiamo grandi riscontri sia di clienti che in termini proprio di ospitalità, di cibo, di accoglienza e arriva pure tanta gente da fuori, quindi prenotazioni in giro della Sicilia, quindi abbiamo comunicato bene e sono felice soprattutto di stare in questa piazza che è così bella e merita questo ed altro. Un menù pensato ad hoc per questo festival, ogni sera proporrete un menù diverso e tra le altre cose la particolarità è la tua collaborazione anche con Chef del Luogo, quindi una contaminazione. Ma guarda questa è una di quelle cose che ho voluto in prima battuta, se facevo il ristorante lo facevo solo in condizione se prendevi il territorio perché lavorare soprattutto noi che non siamo del territorio ma siamo di Palermo, siamo sempre siciliani però veniamo da fuori, volevo coinvolgere il territorio e comunicare che c'è anche il territorio nell'area del ristorante. Ogni sera un menù diverso con quattro portate, un antipasto, un primo, un secondo, un dolce fatto da un pasticcere locale e soprattutto in questi piatti c'è la Sicilia ma c'è il pescato, c'è il pesce azzurro, c'è la storia e c'è soprattutto la ricerca dei piatti delle nonne, delle mamme, quindi cucina assolutamente povera dalla ringa alla spatola, alle sarde, alle alici, allo sgombro, al merluzzo, quello che è veramente il pesce pesce azzurro, pesce povero ma pesce pieno di grandi qualità, pesce che fa bene. Ci sono ancora due giorni per poter mangiare qui in questa terrazza meravigliosa, sabato e domenica ci sono due turni, si serve la cena alle 20 e alle 22 poi? Si serve la cena alle 20 e 30 e alle 22 e 30, due ore di servizio e poi mettiamo di nuovo, apparecchiamo di nuovo e aspettiamo il secondo turno. Abbiamo voluto fare questi due turni per dare la possibilità a chi vuole venire presto ma a chi vuole farsi la cena con tranquillità alle 22 e 30. Questo festival cresce di anno in anno, ti rivedremo anche il prossimo. Ma ormai con l'organizzazione è quasi una conferma, finiamo e ce lo riconfermiamo un anno prima, poi ci incontriamo qualche mese dopo del festival e se ci sono novità come quest'anno, quest'anno abbiamo voluto dare la parte del food più street, tutte le bancarelle nuove, mi sono fatto pitturare le bancarelle da un artista che ha lavorato per Dolce Gabbana che ha fatto le bancarelle tutte a mano perché sono tutte pitturate a mano ed è Tommaso Provenzano che ha fatto queste bancarelle meravigliose e le ho fatti fare apposta per questa manifestazione, per dare luce e per dare Sicilia. Questa area nuova, quindi questa unione penso che è con l'Azzurro Food che va più che bene. E qua si respira davvero la Sicilia perché c'è questa terrazza meravigliosa, il Mediterraneo di fronte e poi questi bellissimi colori di quest'anno davvero. Assolutamente, diciamo che facciamo respirare la Sicilia sia a chi è abituato perché è di sciacca ma chi vuole venire da fuori, i turisti che vengono qui e non si ritrovano la piazza vuota ma si ritrova la possibilità di mangiare o nei ristoranti locali che sono meravigliose o di approfittare la manifestazione che dura quattro giorni.